Ciao a tutti, sono Fabio, opero nel fotovoltaico da più di undici anni. Per primo ho deciso di installare un impianto fotovoltaico a casa mia, perché ho deciso di dare più valore all'immobile, alla mia casa, e di assicurare una tranquillità energetica alla mia famiglia. Che cosa ho installato? Ho installato un impianto SunPower, un impianto che mi darà energia per i prossimi quarant'anni, Pensate che Solar Stratos, l'aereo che sta andando nella stratosfera e che trasporterà un passeggero a meno 60 gradi centigradi, ha deciso di usare le celle fotovoltaiche SunPower, le uniche che a parità di spazio, gli permettono di produrre così tanta energia tale da portarlo nella stratosfera. Pensate che, soprattutto nel settore industriale, moltissimi clienti finali stanno continuando a scegliere SunPower. Abbiamo moltissimi clienti ripetitivi, non solo residenziali, ma anche industriali. Perché? Perché vogliono dare più valore alla loro azienda e vogliono assicurarsi una tranquillità energetica, vogliono andare a dare stabilità e continuità a quello che è il loro business. Io lo farei. È un ottimo investimento. Grazie.